Quest'anno il più grande e triste pesce d'aprile lo ha fatto il governo Draghi e i cittadini. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, torna all'attacco contro l'esecutivo.E questa volta lo fa con un tweet in occasione del primo aprile, giornata per tradizione dedicata agli scherzi, nel quale sottolinea la propria insofferenza nei confronti delle decisioni del governo Draghi per quanto riguarda la gestione della pandemia da Covid in Italia. Mancate riaperture, ristori, restrizioni e misure che secondo la leader di FDI si pongono in perfetta continuità rispetto alle decisioni assunte dal precedessero Conte. Quest'anno il più grande e triste pesce d'aprile lo ha fatto il governo Draghi e i cittadini scrive la Meloni, fingendosi come una rivoluzione rispetto al governo Conte per poi dimostrarsi subito in perfetta continuità su temi trucciali come le riaperture e i ristori. Non è la prima volta che Giorgia Meloni sottolinea questi temi. Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall'inizio dell'emergenza Covid scriveva il 13 marzo scorso su Twitter. Il governo continua a chiudere attività come ristoranti e palestre, non investe come dovrebbe sull'assistenza domiciliare e le terapie nella fase precoce per abbassare la pressione su ospedali e strutture sanitarie. Gli italiani sono esausti di sacrifici che non portano a nulla e non ne possono più di un governo incapace di assumersi le proprie responsabilità. Gli italiani sono esausti di sacrifici che non portano a nulla e 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 non portano a nulla.